Siamo con la compagnia Farò Follie e andiamo subito a cercare di capire quali follie farete invece sul palco. Le follie facciamo di tutto sul palco. L'importante è di far ridere alla gente. Sono 10-15 anni che facciamo ridere, con il nostro gruppo Farò Follie. 10 anni che siamo qui nel giro. Fino adesso abbiamo fatto sempre ridere. Sicuramente sarà anche con questo spettacolo. Dal titolo? Pillole di comicità. Non a caso abbiamo scelto questo termine perché pensiamo che la medicina forse più funzionale, più efficace per il morale, per la salute, per la psiche, sia proprio ridere e divertirsi noi e far divertire il pubblico. E quindi sarà un insieme di gag questo spettacolo? Sì, è un insieme di gag dove faremo, ognuno di noi farà la sua parte. Noi cerchiamo sempre di far divertire le persone. Non vogliamo dare nessuna dimostrazione di saper fare. Vogliamo solo far ridere e far divertire le persone. Allora invitate voi il pubblico di Fano TV. Venite ai nostri spettacoli. Qui a Fano siamo venuti già altre volte. Abbiamo avuto successo e soddisfazione. Speriamo ancora di essere a voi graditi con i nostri sketch covici. Quindi già da ora buon divertimento.